Bene, adesso andremo a vedere come installare un contenitore di Tag Manager all'interno di un sito di demo. Nel mio caso ho già un'istanza di WordPress già installata. Il mio sito sarà demo.tagmanageritalia.it e ho già la mia istanza di WordPress. Innanzitutto per installare il contenitore dobbiamo accedere ai due snippet di codice. Lo possiamo fare cliccando direttamente nel codice qui in alto oppure andando nella voce amministrazione sotto la voce installa Google Tag Manager. A questo punto, come dice anche la guida, dobbiamo installare la prima porzione del codice nella parte HEAD della pagina e mentre il secondo codice va immediatamente dopo l'apertura del tag body. Nel mio caso per installare questi due snippet devo andare sull'aspetto e andare in Editor e ricercare il file header.php dove so già che al suo interno ci sono sia la parte dedicata al HEAD che la parte dedicata al body. Quindi in questo caso quello che mi resta da fare è semplicemente copiare il primo snippet e inserirlo prima della chiusura del HEAD e il secondo invece immediatamente dopo il body. non mi resta che aggiornare il file e verificare se effettivamente il mio contenitore risulta installato. Esistono vari modi per poterlo fare. Il primo è semplicemente andare in Visualizza sorgente pagina e verificare se effettivamente il mio GTM trattino e il codice risulta installato. Qui ho il primo snippet, qui ho il secondo snippet. Perfetto, il secondo modo per verificare se il mio tag di Google Tag Manager è installato, il mio contenitore basta utilizzare l'estensione Tag Assistant. In questo caso abbiamo già il contenitore che contiene tra l'altro già una serie di tag e risulta installato. Questa voce che vi dà questo avviso in realtà è ancora un piccolo bug del plugin infatti lo dice la guida stessa dice di ignorare questa tipologia di codice perché nella vecchia implementazione di Google Tag Manager esisteva un unico snippet che andava nella parte sola del body e quindi il fatto che adesso ci sia anche nell'apertura del HEAD segnala questo errore ma già la guida stessa vi dice di non preoccuparti. Ok, un altro sistema per verificare se effettivamente il mio tag è installato è quello di attivare il debug preview. vi basta cliccare il pulsante anteprima qui in realtà io l'avevo già abilitato quindi adesso lo disabilito in modo da farvi effettivamente vedere come risulta la schermata senza il debug una volta che attivo l'anteprima mi verrà registrato un cookie solo nel mio browser e verrà pubblicato nel mio sito quindi nel mio dominio demo.tagmanageritalia.it a questo punto quindi dovremo avere il nostro debug attivo infatti se facciamo refresh ci verrà il debug attivato e quindi questo dove qui nel lato a destra c'è il valore del contenitore bene, un altro modo per installare il tag, il contenitore di Google Tag Manager è attraverso un plugin il plugin è quello di Duraceltomi la prima cosa che dobbiamo fare comunque è andare a togliere il codice che abbiamo inserito manualmente quindi torniamo nel leader della pagina e andiamo a togliere i due snippet di codice che abbiamo installato manualmente a questo punto possiamo andare a abilitare il plugin che in realtà io ho già installato che è questo, Google Tag Manager for WordPress di Duraceltomi in realtà l'hanno cambiato da poco il nome possiamo andare a trovare il plugin sotto la voce impostazioni Google Tag Manager il consiglio che vi do è utilizzare la funzione di codeless in action in modo tale da non inserire fisicamente all'interno del leader le altre funzioni qui bisogna inserire il codice di Tag Manager del contenitore e poi qua abbiamo tutta una serie di opzioni che possiamo passare al data layer di Google Tag Manager è una cosa che comunque vedremo successivamente è possibile anche gestire determinati eventi, determinate integrazioni anche con contact form e soprattutto anche con WooCommerce per il tracciamento di commerce avanzato ma lo vedremo con calma anche successivamente quindi non ci resta che salvare e andare a verificare se effettivamente il nostro plugin risulta installato anche in questa modalità andiamo a vedere il visualizza pagina e andiamo in ricerca di GTM come vedete qui viene installato prima dell'head e qui subito dopo l'apertura del body quindi anche in questo caso abbiamo installato il nostro snippet di Google Tag Manager attraverso un plugin ci lo da conferma anche il nostro Tag Assistant e se vado in debug in questo caso io utilizzo una scheda anonima dove ho condiviso il debug come vedete anche qui risulta tutto attivato bene non ci resta che utilizzare un'altra modalità che è quella di una funzione custom nel function.php vi basterà quindi andare nella mia guida tagmanageritalia.it slash come installare Google Tag Manager tramite WordPress e qui vi do le tre soluzioni tra cui l'ultima che è quella di inserire questa function all'interno delle function.php del nostro sito quindi andiamo a disabilitare il nostro plugin questo perché? perché magari non abbiamo necessità di utilizzare un plugin e quindi di appesantire ulteriormente WordPress poi ognuno è libero di scegliere l'alternativa che più aggrada quindi andiamo su aspetto, edito e andiamo alla ricerca di function.php ovviamente adesso se vado a fare un refresh non avrò nessun tipo di codice installato come mi dice il tag assistant a questo punto io posso andare in fondo al function.php e inserire i mi due snippet attenzione che bisogna ovviamente inserire il codice corretto quindi gtm pddcn9 inseriamo qui e qui e saldiamo andiamo a vedere se il nostro snippet effettivamente funziona vedo già che il mio tag assistant mi dà queste soluzioni mi dice che è tutto corretto andiamo a vedere se effettivamente gtm viene installato eccolo qui questo viene inserito immediatamente nell'appaltura del subito dopo il title quindi dell'head e l'altro invece viene inserito anche qui subito dopo il body quindi anche questa soluzione funziona bene adesso che abbiamo imparato come installare il contenitore di tag manager possiamo andare avanti con le altre lezioni con le altre lezioni